in un periodo in cui i tifosi della juventus hanno un po di paura per quello che può essere il futuro ecco che arriva in loro soccorso una figura oserei dire leggendaria che parla del suo futuro alla juventus sì perché a cb sports ha parlato alessandro del piero e ha parlato del suo futuro alla juventus scopriamo tutto nel dettaglio cerchiamo di capire cosa ha detto il capitano perché non viene neanche da dire l'ex capitano della juventus il capitano della juventus l'ormai iconica figura leggendaria di questa società che potrebbe rientrare in società scopriamo cosa ha detto e scopriamo perché potrebbe realmente diventare un nuovo dirigente la juventus e da cosa dipende il suo futuro alla juve io come sempre ricordo di supportarci e quindi mi raccomando qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link necessari per potersi servirci ovunque compreso instagram ma soprattutto qui sotto trovate anche il tasto iscriviti ed è assolutamente gratuito non ci sono abbonamenti non ci sono pagamenti da fare non c'è nulla troverete tutte maniera del tutto gratuito quindi iscrivetevi gratuitamente attivate la campanella anche quella gratuitamente lasciate un like anche quello gratuito non vi costa nulla soprattutto ditemi qui sotto nei commenti se volete rivedere alessandro del piero in bianco nero partiamo da quelle che sono le sue dichiarazioni io ero un tifoso della juventus prima ancora di giocare per la juventus e ho trascorso 19 anni in questo meraviglioso club ho vissuto la crisi del 2006 calciopoli e so che la ricostruzione di una squadra richiede molto tempo non giochi la champions perdi molte opportunità ci sono voluti anni per tornare a vincere un trofeo ma non ho mai rimpianti non ho mai avuto rimpianti per quella che è stata la mia scelta so come possono sentirsi i giocatori in questo momento perché sanno che non non sanno cosa potrà accadere ed è per questo che io penso che stiano facendo grandissime cose è chiaro che la domanda sorge spontanea quale sarà il futuro del piero potrà diventare del piero un nuovo dirigente della juventus lui dice ci sono molti rumors ovviamente io non voglio dire sì o no perché è una cosa enorme ma ovviamente ovviamente il mio cuore è lì come ho detto prima ho passato 19 anni nel club parliamo della maggior parte della mia vita guardo sempre quello che accade alla juve con una visione diversa cercando di tenere da parte il lato emotivo anche se devo dire che è molto complicato poi c'è una seconda parte relativa proprio all'intervista di alex del piero che dice guardo sempre la juventus perché quello è parte del mio cuore però devo guardare in maniera un po' distaccata per quanto riguarda la penalizzazione dice ci sono delle possibilità che vengono ridati 15 punti ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione poi si parla del sentimento popolare italiano cioè perché in italia tutti sono contro la juventus tutti odiano la juve è vero questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione ma è vero che in questo momento particolare non puoi prendere questa decisione durante la stagione e questo è il mio rammatico cioè il fatto che una penalizzazione del genere durante il campionato ti condiziona molto sentenza ingiusta dovresti andare avanti e fare quello che devi e se qualcuno ha commesso degli errori nella stagione successiva deciderai cosa fare quindi secondo il piero e l'errore sta proprio lì cioè nel prendere una decisione a campionato in corso e stare tra l'altro dei mesi in attesa di capire se poi un eventuale ricorso potrà essere accolto o meno penalizzare con questi 15 punti a metà del torneo puoi magari darne indietro 10 chi lo sa è qualcosa che non va bene nemmeno per le altre squadre penso per esempio a chi è in questo momento secondo in classifica se dovessero essere ridati i punti alla juve allora sarebbe la juve al secondo posto quindi una specie di montagna russa di emozione per questo credo che a lei che la squadra stia facendo qualcosa di molto importante e da questo punto di vista tutta la ragione del mondo alessandro del piero che dice fondamentalmente dare una penalizzazione a campionato in corso tra l'altro la cosa che fa più che secondo me è la cosa più sbagliata da sottolineare che magari del piero avendo un ruolo un po più importante una diciamo non si può esporre così tanto però la cosa più assurda è la juventus viene penalizzata a campionato in corso e comunque non sai come andrà a finire quindi fai vivere comunque la situazione del genere ci sono altre società che dovrebbero essere che un volta nella vicenda e su cui ancora si prende del tempo ma che hanno eventualmente fatto delle operazioni in un periodo simile a quello della juventus solo che in quel caso si prende del tempo e si deciderà in seguito nel frattempo la juventus però deve accettare quello che dice la procura e quelle che sono le sentenze della della procura un ruolo del piero quindi che non risponde direttamente sul suo futuro dice vedremo dice chi lo sa non ha escluso a priori ma io credo che secondo me lui sta anche un po aspettando cioè vuole capire in che contesto entrerà se entra non vuole ecco tra virgolette non è bruciarsi volentare un contesto in cui sa quale sarà la penetrazione per quest'anno quale sarà la vicenda legata alle nuove stipendi e poi una volta è capito il tutto entrare nel contesto bianconero entrare da protagonista perché le condizioni secondo me al momento sono due per l'entrata di del piero in dirigenza la prima avere certezza cioè sapere su cosa si dovrà lavorare se si dovrà lavorare su una juventus che continua a questi ritmi e quindi con la juventus ancora in champions league o comunque ancora in europa se una juventus ridimensionate quindi guardare una juventus da metà classifica perché le penalizzazioni t'hanno portato a stare lì e quindi sei fuori dalle coppe ai delle maxi multe da considerare quant'altro altro aspetto altro vincolo a cui legarsi è il ruolo perché come detto tante volte il ruolo di alessandro del piero non può essere un ruolo diciamo secondario lui vuole lui si trova bene all'estero stai bene ha avviato una carriera imprenditoriale che gli dà delle soddisfazioni che lo fa stare bene ha vissuto tanto calcio ha vissuto tanto tra virgolette stress calcistico perché ricordiamoci che il piero come ricordo bene lui è stato nel periodo del 2006 e non è facile per un calciatore passare dalla fame dalla gloria di quella juventus dalla fame dalla gloria del mondiale vinto dall'italia l'italia che vince un mondiale dopo tantissimi anni e che torna al tetto d'europa e poi dopo pochi mesi giocare in serie b è un qualcosa che magari dall'esterno dici vabbè sono giocatori giocano a pallone non è chissà che cosa però stiamo parlando qualcosa che da calciatore deve essere frastornante pensate anche allo stesso buffon secondo nella classifica del pallone d'oro vince un mondiale da protagonista e poi ti ritrovi di fronte a un contesto con le la serie b cioè non è non è sicuramente facile mentalmente parlando e quindi è un del piero che ha lavorato tanto all'interno della juventus sportivamente parlando e quindi se ci rientra lo fa perché ne vale veramente la pena nel senso che vuole un ruolo da protagonista l'abbiamo detto tante volte quello che vorrebbe del piero è un ruolo da alla maldini cioè non alla zanetti il vicepresidente che sta lì ma è più un'immagine da figura da figurina ma un ruolo effettivo cioè vuole prendere delle decisioni importanti da un punto di vista dirigenziale vuole capire quale sarà la direzione la juventus vuole scegliere determinate strategie di mercato vuole capire se prendere un giocatore piuttosto che un altro vuole consigliare il nuovo ds anche da questo punto di vista qualche giorno fa abbiamo parlato di una di una notizia rilanciata nicolò schiera che vuole che starebbe pensando in cui ovviamente nicolò schiera parla e la juventus e dice che sta pensando al duo composto da giuntoli del piero un po come quello formato al milan da ammassare maldini che possa riprendere il percorso juventus magari con strategie diverse quindi non puntare più su cristiano ronaldo iguain quindi spese folli ma magari sui giovani ancora da scoprire chi lo sa con una visione un po più simile a quella che ha avuto negli ultimi anni un po il napoli per intenderci o il milan cioè puntare sui giovani che poi ti ritrovi in casa futuri del piero secondo me è destinato a ricongiungersi con quello della juventus e quindi voi sapere che ne pensate voi sul futuro del capitano alessandro del pico